Chi è che piange? Angelica? Ma lei non fa questa voce 86 e mezzo Tagliamo sempre dalla parte di scarto Io conosco la sua voce La conosci? Sì Allora 86 e mezzo Io ricoppio anche la sua voce Quindi io so Sì Per la sua voce Quindi non è lei E come fa a coprire la sua voce? Perché Sono Io ho imparato a scosta Ho imparato a fare alle beri nonni? Ho imparato a scartetti Ha il telefono? Sì Polistirolo No polistirolo scusa Non si chiama PWC PWC Perfetto Magia delle magie Non l'ho messo tutto questo È una specie di plastica Però non è solo plastica È un po' legno C'è un po' di plastica E un po' legno, sì Allora Riempiamo qua Non l'ho mai vista Non l'hai mai vista, vero? Questa roba no Che cos'è? Questa è colla? No Colla, sigillante No Per me mi sembra più crema Crema pasticcera? Sì Adesso questo lo schifiamo giù lì Così Così Poi schifiamo qui Niente qui Così 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 Dopo quando facciamo ancora così Dopo quando andiamo a fare un giretto Per dopo un anno che ci invitano Io lo faccio ancora così Ok? Salute Faccio ancora così Però io voglio che questo mi si incolli qui così Faccia acqua No Sei stata bravissima amore mio Se non sei di te E' stato facilissimo Allora Puliamo Per te è stato facile La roba che cola Non mi porti via la mia assistente così? Mi porti via la mia assistente così? Adesso perché c'è un po' di roba che esce fuori Non è che la buttiamo La riutilizziamo Eh La ricicliamo Così L'abbiamo sigillato anche lì Abbiamo preso Due piccioni con una fava Da me si dice Adesso mi rimane a fare La parte più difficile Cioè mettere il pezzo che va dal di lì Fino alla dentro E finire di tagliare lì E poi fare tutta questa parte qua Che è tutta storta Tutta di traverso E rinforzare tutta quella parte lì Questa dico che è la parte più difficile Perché Come si vede qui Il legno Questo lo devo finire di tagliare Il legno viene qua sotto Ma anche Va a finire nella parte sopra interna E quindi lì sarà difficile andare a far bene le misure A prendere bene Tagliare bene Pulire bene Di qua ci sono già riuscito Però devo fare le lamiere Che vanno Le lamiere Devo fare i travetti Che si tagliano di traverso Fagli i suoi Le sue sezioni Bene ragazzi È passato qualche ora Ormai La colla Sta iniziando A prendere Tant'è che Ho già tolto alcuni Morsetti Tipo qui vicino alla porta E direi che possiamo iniziare Ad incollare Il polistirene Almeno nella parte inferiore Magari partiamo dall'armadio Partiamo dalla finestra Adesso vediamo Comunque Quello lì si potrebbe già iniziare a fare Quindi iniziamo Noi siamo all'incirca così Quindi ci serve 56 Ok E non voi Siamo noi Siamo noi I professionisti Siamo noi Siamo noi Adesso raga qui Non state esagerare Con la colla Perché tanto Devete solo mettere Un Pannello di politirolo Non deve tenere su niente Quindi Chi se ne frega E se ne mettete troppo Vi fa spessore E dopo Non riuscite più A Metterlo Perché Le misure Vi cambiano Quindi poco Va bene Non state diventare Ratti E va benissimo Massimo un po' qui Così Ma giusto Per tanto da Perfetto Ora Instecchiamolo Tutto dentro Vai Entra Tutto dentro Vai che lo vogliamo Tutto dentro Ok Tutto dentro Tutto in fondo E ci siamo E ora Andiamo avanti Con l'incollatura No Ho sporcato Gli occhiali Da lavoro Dopo con il sigillante Non vedo più Allora Perfetto Ok E ora Asse di legno Si batte Perfetto Questa è una tecnica Che ho imparato Montando il cartongesso Io praticamente Monto Tocco Con il dito Tengo premuto Il dito Sul metro All'altezza Di 12 cm Mi appoggio A polistirolo Con la lama La tengo Alla fine Del metro E di qui Risco a tirare Una riga dritta Adesso vi faccio vedere Un attimo Che rifaccio Le misure Bene Allora 12 scarso Devo fare Questo lo tengo Puntato bene 12 scarso Più o meno Così Tengo puntato Qui E poi Striccio In questa maniera Mi è venuta La riga dritta Senza tanti squadri Senza tanti squadri Senza tanto fare Due segni Poi lo tiri con lo squadro Molto molto veloce E al mio pannello Sto mettendo troppo Polistirolo Polistirolo Muoviamo un po' Avanti e indietro Poi Martello Lo battiamo Lo battiamo un po' Due Tre Vediamo un attimo Dove arriviamo Arriviamo qui Quindi l'ultimo Devo fare circa qui Ok E ora sticchiamo Un'altra Perfetto Polistirolo Muoviamo un po' Faccio un gran casina Dappertutto Le incolliamo Sticchiamo un po' Martello A me tutta quella colla Pizzicata lì Non mi piace Io devo avere Tutto quanto Il più possibile Pulito Devo lavorare Nel pulito Dovete imparare A lavorare Nelle robe pulite Più lavorate Nel pulito E meglio è Perché così Facendo Non perdete Il materiale Non perdete Il tempo Bisogna lavorare Sempre nel pulito Con il silicone Strutturale Facciamo Una striscia Due Tre Un po' sotto Un po' di lato E Un po' di lato Perfetto Poi lo appoggiamo Prendiamo Questo Aca Questo Aca Perfetto Ok Cartuccia Weber Finita Questo qui Che l'ho comprato In ferramenta E Questa marca Qui l'ho comprato In ferramenta Non dà le specifiche Tecniche Però è sempre Per Il Le giunzioni Di capannoni Quindi adesso Testo questo Anche se questo È grigio C'è anche bianco Però io l'ho comprato Grigio Perché Bianco Non l'avevo Non l'avevo Non l'avevo Finito Questo qui l'avevo Già utilizzato Per Sigillare Incollare La telecamera Della retromarcia Sono sempre robe Quelle da 5-6 euro Questo è il primo strato Di isolante E il primo lavoro È stato fatto E finito Almeno la parte sotto L'abbiamo fatta Sia qui Che nell'armadio Poi qui ci va Quell'altro pannello Da mezzo centimetro Va incollato qui Che non so neanche io Quando incollarlo Se partirete adesso So meno La parte sopra Non l'ho fatta Perché devo ancora Finire di mettere Lo strutturale Quindi lo lascio libero Almeno per il momento Ho fatto La parte sopra Di strutturale Con il materiale Quello plastico E ho fatto Dei tagli Non so se si nota Questi taglietti Che servono Per le viti Del tendalino Facendo Tutti questi taglietti Ok Poi con un cacciavite Si fa un po' di leva E in teoria Si dovrebbero rompere Staccare Molto facilmente Più o meno Non è proprio Così semplice Però State attenti A non farmi male Si fa Lo provo E' inutile dire Che le misure Le ho fatte Puntando Il legno Mi sono fatte Le misure Direttamente Sul posto Così Non si sbaglia Ok Ci siamo Ci siamo Adesso che c'è La colla Cambia la situazione Ok Però lo martelliamo Ok Adesso dovrei Incollare Una roba del genere Sopra Però C'è Un bel però E' un grosso problema Cioè Dargli La giusta Inclinazione In realtà La cosa giusta Sarebbe Schiaffarlo Lì Ok Andarlo su qui Così Ecco Andarlo su lì Schiccarlo lì Così E incollarlo lì Così Che avrei anche Quasi due centimetri Qui Quasi due qui Questa sarebbe La sua posizione Buona E gli schiaffa Una bella Strutturata Così 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 Bene ragazzi Anche per questo video è tutto Visto che ho fatto abbastanza E ormai è anche buio Quindi ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao